Saracinesche abbassate informazioni poco chiare, anche a Prato decine e decine di pazienti fanno i conti con la chiusura della clinica odontoiatrica Dentix, uno dei 57 centri presenti in Italia travolti dall'emergenza Covid. La catena italiana fa capo alla Dentix Spagna, che ha presentato in tribunale la richiesta a distanza prefallimentare. Nelle ultime settimane in Italia, anche a Prato, gli operatori non rispondono più ai pazienti e sembra di fatto che le cliniche abbiano cessato l'attività. Per l'ambulatorio di Corso Mazzoni, inaugurato nel 2016, la storia si ripete, porte sbarrate e clienti lasciati a piedi, o meglio con interventi importanti in bocca da completare, pur avendo pagato le cure in anticipo e avendo acceso finanziamenti per sostenere le spese. Io ho iniziato a settembre l'anno scorso e fino a marzo hanno preparato le protesi, però queste protesi non sono state mai messe e mi sono ritrovato senza denti in bocca. Avevo fatto un finanziamento di 18 mesi, 9 mesi ho già pagato, 3.300 euro e ce l'ho da pagare altre tante. Sono così, a passate lesse, minestrine e carne macinata. Rimasto fermo per il fatto del lockdown. Sono disperato perché bisogna che provveda, insomma, un po' continuare a stare senza denti in bocca. Hai provato a mettersi in contatto con Dentix? Sì, sì, due o tre volte, l'ultima volta dieci giorni fa e mi dissero ci sarebbe voluto altre 15 giorni perché si dovevano adeguare alle nuove normative e io ho espressi dei dubbi perché io dubito, gli dissi sinceramente, dubito che ci siano dei problemi grossi sotto perché insomma siete stati tre mesi fermi e tutti hanno già ricominciato da tempo, quindi che non siate ancora pronti e mi fa sorgere i dubbi. In effetti l'azienda rompe il silenzio. Proprio in questi ultimi giorni sul sito ufficiale di Dentix Italia è comparsa una lettera a firma del presidente Angelo Lorenzo Muriel, un messaggio in cui non si negano le difficoltà che il colosso sta attraversando e in cui si spiega che nessun paziente sarà lasciato indietro. L'azienda insomma si starebbe attrezzando per la ripartenza. Intanto però sono circa 50 le persone di Prato e provincia che si sono rivolte a con consumatori per chiedere supporto. Tra i casi segnalati ci sarebbero anche alcuni bambini. Chi non ha più denti perché li sono stati tolti e quindi è rimasto senza denti e senza lavoro finito, chi per protesi difettose, chi per danni che hanno subito e sono andati da altri dentisti e gli hanno confermato che ci sono dei danni e che quindi sono rimasti senza far niente. Il problema è che queste persone hanno stipulato, hanno fatto dei finanziamenti collegati al lavoro del dentista e che quindi noi cercheremo di aiutare in tutto e per tutto per fermare questo finanziamento e recuperare ciò che hanno versato. Attenzione, per molti c'è la possibilità di ottenere indietro tutti i soldi ma bisogna agire in fretta. Nella possibilità che il contratto di finanziamento sia collegato con il contratto di acquisto fatto alla Dentix e nella maggior parte dei casi pensiamo che sia questa ipotesi perché la Dentix stessa ha informare il cliente della possibilità di un pagamento rateale e a proporre la finanziaria al consumatore. Nel caso di consumatore c'è una norma a tutela di quest'ultimo con la quale si può interrompere il finanziamento e con le modalità adatte anche ottenere la restituzione di tutta la somma già pagata alla finanziaria. Sarà la finanziaria poi che si dovrà rivalere in questo caso sulla Dentix per ottenere la somma già erogata alla Dentix.